Noi, i bambini del terremoto dell'Aquila. Angelica Rubimarga è una studentessa aquilana, frequenta l'ultimo anno del liceo a Cotugno. Il settimanale 7 del Corriere della Sera dedica un'ampia pagina all'articolo di Angelica, già lo aveva fatto in nazionale con una sintesi. Il miglior testo d'attualità, così, è stato definito dal corsera della settimana. L'ultimo anno del liceo e tanti sogni nel cassetto, come quello di provare, ad esempio, ad entrare nella facoltà di medicina. Angelica scrive che tutte le mattine si alza e va a scuola, a Colle Sapone, l'edificio che ora ospita lei e i suoi compagni, come tutti gli aquilani sanno. La nostra scuola, scrive Angelica, sembrava sicura, ma ci sbagliavamo. Abbiamo avuto un periodo travagliato lo scorso anno, racconta, proteste, trasferimenti in luoghi orari differenti. La mia classe ha passato gli ultimi mesi di scuola nell'aula magna, a maggio stavamo ancora con stufette e coperte. Ogni giorno entravamo nell'aula magna e ci chiedevamo perché non avevamo più un'aula normale. Anche quest'anno è iniziato, racconta ancora con un corteo di protesta, per farci notare ancora il liceo Cotugno spezzato in cinque sedi, senza più la normalità di una scuola. Un nuovo luogo, nuove persone, un po' come è successo nove anni fa. I giovani aquilani, e il suo è anche un grido di dolore, pensavano che dopo essere dovuti scappare da casa loro, allontanarsi dalla città, doversi rapportare con nuove realtà e dovere fare i conti ogni giorno con un ricordo doloroso, avrebbero avuto una città nuova, rispettabile, di cui andar fieri. Una nuova scuola dove poter avere opportunità e conservare esperienze, come qualunque altro ragazzo, una nuova casa dove poter proseguire la vita di tutti i giorni. Sono passati nove anni, ricorda Angelica sulle colonne del giornale, i ragazzi non sanno dove vedersi, non trovano stimoli, non vivono il centro e la periferia come avrebbero voluto. Quando si arriva al quinto anno di liceo si riflette e si fa un bilancio, si analizzano desideri. Il desiderio di molti ragazzi aquilani non è quello di rimanere in questa città, molti miei coetanei andranno via. Il terremoto ha segnato un prima e un dopo, scrive ancora, nelle vite di ognuno, una nuova linea del tempo, con al centro stampata la data del 6 aprile. Dopo tanti anni, tanto disorientamento, una situazione del genere, dopo tutti questi anni soffoca e spinge ad andare via. Un tema, quello raccontato di Angelica, di grande attualità, del resto la situazione del liceo Cotugno è ben nota. Dopo nove anni nulla è cambiato, si spera a settembre, per chi arriverà, di trovare un nuovo scenario.